Una situazione ormai intollerabile. Le difficoltà di accesso al Santorio della Madonna delle Grazie di Modica causa lavori in corso da mesi per la riqualificazione della piazza e dell'area sono evidenti e continue. Incontri con l'amministrazione comunale per risolvere i problemi, nessuna traccia. Così lo sfogo del parroco Don Stefano Modica è evidente in come la riassegnazione. La possibilità prima era stata quella proposta anche a noi, al comitato, data come rassicurazione dalla nostra amministrazione e dai tecnici, era uno sbancamento della montagna oltre il ristorante Il Girasole. Quindi tutta quella zona doveva essere sbancata per creare 70 stalli per le auto. In quel caso la possibilità di raggiungere la basilica sarebbe stata abbastanza buona? Abbastanza buona, anche perché non avendo questa possibilità bisognerà parcheggiare o nella zona del mercato o in Viale Medaglie d'Oro, tenendo conto che Viale Medaglie d'Oro all'80% è tutto con strisce blu. Non ci vuole granché a capire che la viabilità è diventata un grande problema ed è diventata un grande problema la questione dei parcheggi, anche perché si parla dei parcheggi da riservare ai residenti e ci mancherebbe altro perché c'è gente che ci vive qui. Ma tutto il resto? E l'altra domanda? Non solo, ma voglio dire un'altra cosa perché è stato dichiarato pubblicamente anche dall'assessore e quindi questo ancora non è stato discusso insieme, addirittura si vuole fare di questa zona una zona a traffico limitato solo per i residenti.